L'ingresso a Mauthausen dove ci fecero un bel discorsino in tedesco che poi qualcuno a sapere tedesco lo tradusse e la frase più gentile fu questo è il portone da cui siete entrati e quella è la via da cui uscirete indicando il comignolo del crematorio che fumava e spendeva un'odore di carne bruciata quindi chi aveva delle illusioni le perse subito lì bisognava vivere minuto per minuto non ora per ora ma letteralmente minuto per minuto e è difficile far capire una cosa del genere a chi fortunatamente non ha mai corso un pericolo reale della propria vita sulla parola razza ci sarebbe da scrivere in un romanzo ci possono essere varie etnie non è che cambi nulla nell'animo umano l'umanità, la bontà o la solidarietà o la cattiveria che possono raggiungere limiti infiniti sia al di sopra sia al di sotto è insito nella natura umana purtroppo solamente Hitler è riuscito a convincere mezzo mondo che gli ebrei costituivano una razza come se ci fosse la razza cattolica la razza maometana, la razza scintoista eppure bisognava però che creasse come tutti i dittatori un oggetto di odio allora lui trovò gli ebrei io non odio nessuno non è odio il mio l'odio è un sentimento che distrugge e basta non crea nulla invece nel mondo c'è bisogno di creare e non di distruggere io sto vedendo appunto specialmente in Europa ma anche un po' in tutto il mondo un ritorno strisciante del nazionalismo vede anche in televisione il prodotto italiano questo è esclusivamente italiano e questo qui è una sottile propaganda che abbiamo già visto è un déjà vu anche mia moglie lo può dire e per il fascismo tutto quello che era italiano era bello era bello, era buono, era bravo italiani brava gente mentre invece a me non importa nulla se l'olio è fatto con le olive greche che i greci coltivavano le olive quando i nostri attenati uscivano dalle caverne quasi e quindi che sia l'olio fatto con le olive greche basta che sia a qualità quindi è quello che nei giovani purtroppo viene stellato piano piano questo criterio di nazionalismo e il nazionalismo e il razzismo vanno di pari passo quindi per conto mio prima o poi ci sarà una nuova rivoluzione ci sarà un qualcosa che sconvolgerà di nuovo il mondo